1981 Attentato a Papa Giovanni Paolo II 1978 Italia Entra in vigore la legge Basaglia 1968 Parigi Grande manifestazione È l'apice del maggio francese Commenta il fatto del giorno Giuseppe De Tommaso Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Oggi parlerò di Carlo Azzelio Ciampi Uomo del risorgimento E grande europeo Alla prossima Uomo del risorgono STA Mujer